La guerra a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Platinette si accende durante la trasmissione Domenica Inn. La giurata di Ballando con le stelle attacca duramente il noto personaggio televisivo, definendola la concorrente più difficile da gestire nella sua lunga esperienza nel programma. Platinette risponde con un post velenoso su Instagram, scatenando una polemica sui social. Durante un'intervista con Mara Venier, Selvaggia Lucarelli parla dell'edizione attuale di Ballando con le stelle e rivela che il suo nemico numero uno è Sonia Bruganelli. Tuttavia, la giornalista sottolinea che Platinette è stata il concorrente più difficile da gestire in tutti gli anni in cui ha fatto parte della giuria del programma. La Lucarelli critica il comportamento poco autoironico e poco divertente della Subrette durante la sua partecipazione nel 2016. Platinette, alias Mauro Coruzzi, reagisce con sorpresa all'attacco di Selvaggia, condividendo il video dell'intervista su Instagram e commentando ironicamente sulla memoria della giornalista. Nonostante la polemica, Platinette riesce a stemperare la situazione con autoironia, ma si spera che Selvaggia eviti nuove provocazioni. La rivalità tra Selvaggia Lucarelli e Platinette risale a diversi anni fa, ma sembra essere ancora viva e vegeta. La polemica tra le due personalità televisive continua a tenere banco sui social, con i fan che seguono con interesse ogni sviluppo della vicenda. Resta da vedere se questa guerra a distanza avrà un epilogo pacifico o se le due protagoniste...